Quando ho immaginato questo progetto, più di dieci anni fa, pensavo a qualcosa che dovesse avere un'utilità, come uno strumento da impugnare e usare. Immaginavo un'opera d'arte che potesse resistere alle intemperie contro l'essere umano, un'opera su cui far correre la nostra voce, un'opera che potesse cambiare il nostro punto di vista, un lavoro sulla prospettiva. Anything to say è per tutti, non ha una bandiera, un credo politico o religioso, è un'opera itinerante, nomade e apolide. Anything to say vuole essere un'arma per difenderci dai barbari, un'arma di costruzione di massa critica. Sì, perché il senso critico è forse l'unica arma, insieme è l'immaginario, che abbiamo per difenderci da chi ci vorrebbe pigri a suoi fatti. Un'opera che avesse un pezzo mancante e quel pezzo è la sedia vuota, che ci invita a salire in difesa dei nostri diritti, della libertà di espressione, del nostro diritto di sapere. Quest'opera si completa solo quando ci saliamo in piedi, perché a volte dobbiamo avere il coraggio di dissentire, di opporci, di essere maleducati se vogliamo cambiare la società. Grazie. 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 Grazie.